3.000 euro a famiglia, occorre però fare richiesta ed il termine per la domanda scade il prossimo 19 gennaio 2024. E' questa la cifra media stanziata da Regione Toscana per le popolazioni toscane colpite dall'alluvione dello scorso mese di novembre. Attraverso l'iniziativa della Giunta in sede di bilancio, la Regione ha stanziato prima 15 milioni e poi ulteriori 10 milioni per complessivi 25 milioni di parte corrente e quindi subito spendibili per il primo soccorso agli alluvionati. Le famiglie alluvionate, afferma Gionio Gianni, presidente e commissario in questo caso per l'emergenza, risultano circa 29.000 e dallo stato attuale circa 5.000 hanno presentato la domanda. La domanda si fa seguendo la piattaforma messonato da Regione anche con il sostegno di tre uffici collocati in loco per l'assistenza a cittadini e famiglie rispettivamente a Campi Bisenzio, a Prato ed a Quarrata. A supporto di questi tre uffici, dice Gianni, per svolgere la pratica della domanda, vi è la rete dei CAF e i centri di assistenza fiscale che sono a disposizione e che hanno offerto una collaborazione fattiva nel contesto dello sviluppo della pratica. Allo stato attuale però sono pertanto 5.000 le domande presentate del termine di scadenza e il prossimo 19 gennaio. Mi preme ricordare che Regione Toscana offre, vista ancora la titanza delle risorse statali, questa possibilità di risorse regionali per circa 3.000 euro richiedente e vi è ancora un'ampia disponibilità di risorse. Invito quindi cittadini e famiglie ad attivarsi al più presto per predisporre la domanda che servirà sia ora per il primo soccorso ma anche per la domanda che sarà di utilità per il vero e proprio ristoro che potrà essere considerato nei prossimi mesi quando lo Stato centrale, ci auguriamo, offra le risorse promesse. Sono convinto, conclude Gianni, che sia importante attivarsi il prima possibile per evitare che errori materiali nella compilazione dei moduli della domanda possano impedire l'accesso ora al primo soccorso e domani alla ristoro. Formulo un appello ai cittadini e alle famiglie per attivarsi alla presentazione entro e non oltre il prossimo 19 gennaio. Sempre secondo le stime regionali saranno circa 8.500 le persone a cui potranno corrispondere i cittadini.